Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Games, io sono XanderGamer90 ma prima di cominciare voglio farvi tanti 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 auguri di buon anno nuovo siamo qui oggi su PES 2015 nella modalità MyClub per vedere le divisioni sim, cosa sono, come funzionano ma prima volevo segnalarvi una cosa, un bonus offerto da Konami per questi primi 5 giorni dell'anno per festeggiare l'anno nuovo, infatti vedete qui l'annuncio che nei prossimi 5 giorni offritremo 2015 GP a chiunque effettui l'accesso giornalmente, è un bonus che è valido fino al 5 gennaio quindi dal 1 al 5 gennaio ogni volta che si effettua il primo accesso giornaliero a MyClub si ottengono 2015 GP, chiaramente 2015 proprio per simboleggiare l'anno, l'avvento dell'anno nuovo però sono tanti punti, perché comunque il 2015 GP si fanno con una vittoria nelle divisioni basse insomma, anche un po' meno se ne fanno quindi sono tanti crediti che fanno sicuramente comodo, volevo segnalarvelo perché magari vi tornerà utile detto questo, tra l'altro vi ricordo anche che questo bonus si somma al già presente bonus giornaliero ogni volta che si fa il primo accesso, nel senso che, anzi la prima partita, pardon perché ogni volta che giocate la prima partita in MyClub, la prima partita della giornata ricevete, mi sembra un bonus di 2500, forse 3000 credi, adesso non ricordo esattamente quant'è comunque ricevete un sostanzioso bonus per la prima partita quindi cercate, se giocare a questa modalità, di fare almeno una partita al giorno di fare almeno un accesso al giorno, perché in questo modo i vostri credi aumentano di parecchio le vostre rendite giornaliere, ecco ma veniamo ora all'argomento principe di questo video video che non sarà molto lungo perché in realtà c'è poco da dire ovvero le divisioni sim cosa sono le divisioni sim, in cosa differiscono queste dalle divisioni normali in cosa differisce la modalità sim da quella normale sim sta per, suppongo, per simulazione perché di fatto questa è una modalità in cui non controlliamo la squadra ma facciamo tra mille virgolette soltanto l'allenatore, cioè la mettiamo in campo e poi possiamo solo fare i cambi e gestirla da fuori senza poter controllare direttamente i giocatori vediamo la descrizione che ne dà il gioco stesso andando sull'aiuto dunque dovrebbe essere qui eccolo qua, divisioni sim leggiamo da qui il gioco lo scrive come una modalità allenatore in cui appunto si prendono solo decisioni tattiche della squadra per esempio scelta delle strategie o delle sostituzioni invece di controllare direttamente i giocatori sul campo perciò se scartare gli avversari in campo con destrezza e riflessi non è il tuo forte potrai usare l'astuzia e l'ingegno tattico messa così sembra una gran figata perché sembra quasi una sorta di manageriale però in realtà le opzioni sono molto limitate perché non vengono messe a disposizione delle opzioni più approfondite per questo tipo di modalità in realtà le possibilità di scelta sono le medesime che si hanno quando si controlla anche la squadra quindi si può fare veramente poco per interagire direttamente quando si è in partita non ci sono comandi magari che ne so, da dare al volo tipo indicazioni alla squadra, eccetera si può soltanto mettere in pausa fare i cambi dallo stesso identico menu che c'è anche quando giochiamo la partita classica si può chiaramente mettere in campo la formazione quindi scegliere la formazione prima della partita durante la partita l'unica cosa che si può fare senza mettere pausa è esattamente come nelle partite normali scegliere la tattica difensiva o offensiva usando le freccette del controller le freccette insomma direzionali però a parte questo non si può fare nulla peraltro una cosa che non mi piace molto è che il mio avversario vede quando io cambio tattica quindi quando metto la difensiva o quando metto la offensiva e in questo modo è anche un po' meno divertente nel senso che va a farsi friggere anche quel bricio di strategia che poteva esserci nel senso che è come giocare a carte scoperte perché se mi metto la difensiva il mio avversario lo vede subito e viene ad attaccarmi viceversa magari se vede che vado ad attaccarlo e sta vincendo magari si copre un po' di più quindi il problema è che vede subito l'input che do quindi non ho la possibilità di sorprenderlo e per il resto è la più classica delle partite tra due CPU quindi abbastanza noiosa al più delle volte però quello poi dipende anche molto dai valori in campo questa è in soldoni la modalità sim le divisioni funzionano esattamente come le divisioni normali quindi c'è una soglia di punti da fare per venire promossi nella divisione successiva oppure una soglia minima insomma una quota minima da fare per raggiungere la salvezza il funzionamento è proprio esattamente lo stesso delle divisioni normali l'unica differenza è questa appunto che non si gioca non si controlla direttamente la squadra quindi non si può influenzare direttamente il risultato della partita il mio giudizio complessivo su questa modalità è che è veramente una modalità superflua e noiosa perché non serve a niente è aggravata anche dal fatto che i contratti dei giocatori vengono usati anche in queste partite e quindi se fate una partita di divisioni sim tutti i vostri giocatori avranno un contratto in meno che non è sbagliato di principio però secondo me sarebbe stato più corretto se non posso fare magari dei contratti riservati solo e esclusivamente alla modalità sim perché comunque rinnovare i contratti in my club è molto costoso in relazione alle entrate che si hanno dalle partite quindi già i costi contrattuali gravano molto sull'economia del team e se devo scalare anche i contratti con le divisioni sim è chiaro che non sarò mai incentivato a fare anche queste partite soprattutto se so che comunque non posso neanche controllare ai giocatori quindi non posso neanche far valere le mie abilità se sono magari bravo a giocare per cui ecco non ci sono forti incentivi per giocare questa modalità secondo me modalità che tra l'altro mi ero dimenticato di dire nell'apertura era già presente nei vecchi PES perché me la ricordo io comunque ho giocato a PES fino a PES 2011 e poi sono passato a FIFA ma mi ricordo che questa modalità era già presente nei vecchi PES precedenti all'anno 2011 insomma quindi non si tratta di una vera e propria novità e questa era a grandi linee la modalità sim ora prima di salutarci volevo anticiparvi un pochino quello che ho in mente di fare appunto con PES con MyClub nelle prossime settimane se non addirittura nei prossimi mesi cioè ora che vi ho spiegato un pochino le meccaniche di base di questa modalità volevo cominciare come vi ho detto anche a giocare a fare un Road to Division 1 magari non in modalità sim ma è comunque la classica chiaramente e la mia idea era di portarvi se riesco un video a settimana comunque di tenere questa tabella di marcia come riferimento poi a volte magari ce la faccio a volte magari salterò qualche settimana a volte ne farò anche due a settimana a seconda dei miei impegni però diciamo di media un video a settimana in cui vi porto due partite chiaramente gli highlights delle due partite e in cui apro in diretta nel video un giocatore insomma ingaggio un agente top e quindi ingaggio un giocatore un giocatore top presunto top perché poi escono delle delle sole assurde però vabbè quindi questa è l'idea insomma due partite a settimana più un ingaggio di un agente top questa è la mia idea ditemi un po' cosa ne pensate ditemi anche se volete vedere poi qualcos'altro di specifico in questa modalità o su PES in generale io vi ringrazio per aver seguito questo video lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale di spazio se per qualche motivo non l'avete ancora fatto se volete passate anche dal mio trovate il link in descrizione e noi ci vediamo a questo punto prossima settimana con le prime partite spero un saluto da XanderGamer90 e a presto ciao